Gli aggiornamenti di Roblox su Book Heaven Perchè oggi sono uscite dei bellissimi aggiornamenti Ci sa, sono uscite delle belle cose Adesso che voglio... Aspetta, poi c'è... Manette... Spam... Ah! Spam! Questo è questo E' uno che può servire mentre voi state male O appena voi fate... Appena voi vi prendete... Appena uno si prende in giro lo mettete così E no, basta Anzi poi Poi c'è E... E... Non fare Questo è quando si fa... Quando c'è Un raffreddore Questo è gli occhi E questo si fa così appena... Appena c'è morto Poi c'è questo saltello C'è... Questo... Questo... Pion... Guarda questo si fa così... Guarda... Appena c'è... Poi c'è questo di fare... E... Ful... Poi... E... Anche poi c'è... Poi c'è questo ci fare... E... Poi c'è questo di fare... E... Dò... Fungi... guarda questo si fa così tipo anche il tifo c'è tipo tifo stai rifando a qualcuno è tipo il mamarrone si tipo anche il mamarrone no agonia vabbè e lo puoi fare agonia tipo quando... che ne so tipo c'è un mat su quelle matte ma già c'era vabbè felice c'è e c'è il pienso è rifando è annoiato è annoiato poi c'è il badiglio c'è blocking guardare a se stesso si guardare a se stesso poi c'è questo poi c'è victoria vittoria vabbè vittoria poi c'è l'indosso e poi ci cominciano i balli infatti ci cominciano i balli c'è vabbè poi c'è questo vabbè poi c'è aspetta questo ce l'abbiamo questi pure però ci sono questi guarda si guarda si questo è il ballo che ha fatto Rob questo è il ballo bellissimo facciamo questo guarda si guarda si guarda 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 c'è il coso il bello di come si chiama questa canzone a macarena si si poi guarda l'ultimo è il più bello guarda benny questo si può questo ballo si deve usare per carnevale questo ballonario è bello 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 poi c'è quello dieci poi c'è anche questo il dieci è più bello ok ora adesso vi faccio mostrare qualcosa del telefono delle cose che c'è perché Roby ce l'ha fatto mostrare ora aspetta ecco le strategie ok ok facciamo così tu metti la bambina usiamo così facciamoci tu metti soltanto una cosa per la macchina una ti metti la ah prendo questa con questa macchina c'è anche altro team ruby butta e non fa niente vabbè c'è la bambina con noi guarda ora ti faccio vedere guardate la pelle guarda qua c'è la bambina lo potete anche mettere anche se vuole già lo potete prendere anche in tasso questo si può aggiustare in tutte le bambine guarda ci faccio lì e lo portate appresso e poi questo lo portate anche al tasso poi c'è questo anche c'è la bambina sopra è troppo bello da usare poi c'è c'è la bambina sopra c'è la bambina sopra per dentro c'è la testa c'è la cazza e la cazza per i cosi la cazza c'è la cazza c'è cazza roby è troppo bella questa bella cazza che mi piace è bella anche per me per te aspetta c'è questa cazza Vabbè, allora questa carta è un po' bella Giunta ha fatto il processo oggi a Cacamo Giunta ha fatto il processo a Cacamo Allora, eccoci qua Allora, ok, allora qua c'è il coso qua Qua c'è una bellissima casa, solo c'è tutto bianco Però si può anche cambiare colore Metti quando siete a buio, quando siete anche in rischio Potete fare, cambiate colore così Potete mettere qualsiasi colore Un colore che volete voi Potete volere il colore viola Viola, che si può stare, si può anche mettere Oh mio Poi c'è il rosa Che è il mio colore preferito Insinando la maglietta di Roblox E poi basta Voi dovete scegliere blu Poi potete scegliere arancione Arancione Ecco, arancione Rosso Per benedetto può essere l'ultima Rosso Giallo 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 ti consiglio Non mostrare tutte queste cose E' verde I fanno lo sanno che si può cambiare la casa E' sì, lo so Però mi piace rosa Però è meglio di non confondere tutte le strutture Perché tutti i youtuber Loro ce l'hanno Vabbè E poi c'è quello della piscina Perché Robi l'ha fatto mostrare, no? E poi E poi basta E poi non ci sono segreti Ce ne sono un po' di segreti Per la piscina Per la piscina ci vuole Per la piscina ci vuole il premium Per farlo potete andare nel video di Robi E mostrare dove è la piscina Ok? Perché quello è per il premium Io non ho il premium Vabbè Ok? Visto che il video vi è piaciuto Mettete un like Mettete un like E iscrivetevi Ok? Ciao! Iscrivetevi al canale di Giorgia Unica Ciao! Belli città Belli città Belli città Belli città Belli città